Domani, venerdì 22 marzo, alle ore 21, tornerà a Peramo la sacra rappresentazione della Via Crucis, quest'anno però nel suggestivo scenario della Villa Comunale. Sarà possibile assistere alla celebrazione all'interno della villa e con l'ausilio di due maxi schermi. Si potrà partecipare alla liturgia anche tramite una videoproiezione dall'interno della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria o comodamente da casa, in diretta sulla nostra emittente, la QTV. Quest'anno le 14 meditazioni saranno scritte e lette da rappresentanti delle parrocchie di Teramo e delle associazioni ecclesiali di volontariato della Diocesi. L'animazione musicale sarà cura della Cappella del Duomo di Teramo diretta dal maestro Maurizio Vaccarili, accompagnati da un quartetto d'archi e un netto del Conservatorio musicale Braga di Teramo. La Via Crucis è un momento di riflessione e di preghiera per scoprire l'evento della Pasqua e costruire insieme la civiltà dell'amore, osserva il Vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, che presiderà la celebrazione. L'esperienza della croce è la via per incoraggiare tutti a non avere paura del futuro e a promuovere una nuova cultura della pace. L'organizzazione della via Crucis si è avvalsa anche quest'anno della preziosa collaborazione di enti locali quali la provincia di Teramo e il BIM. Il comune di Teramo ha concesso la location e appoggiato l'iniziativa attraverso il sindaco Gian Guido D'Alberto, che ha dichiarato la via Crucis oltre a rappresentare un importante momento di preghiera e raccoglimento rispetto al quale il comune proseguirà sempre a far sentire la sua presenza e il suo contributo, si conferma un appuntamento che appartiene al percorso culturale e alla tradizione della nostra città. Quest'anno, per via dei lavori di rifunzionalizzazione del Teatro Romano, che l'ha ospitata negli anni scorsi, si sposterà nella cornice altrettanto suggestiva della Villa Comunale, unendo l'aspetto religioso e quello della valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturale. Appuntamento dunque domani alle 21 alla Villa Comunale di Teramo o in diretta sulla QTV. Grazie. Grazie.